Apriamo la diretta Facebook, salve a tutti dalle telecamere di Tadio TV Ponte Grande da... Orlando Diolese E Orlando Muele, beh assai, ma è un po' di tempo Orlando, che non andiamo in diretta, ho sbaglio? Esatto, esatto, un bel po' di tempo, scusate E tu non fai niente, dalla mattina alla sera ti riposi, hai tutti i giorni libri, c'è orario libro, mattina libero Vabbè, meno di estate, fammi riposo Non fai niente, dalla mattina alla sera, qualche giorno, falla qualche diretta Vabbè, però scusa Sì, lo so, da lunedì al sato Eh? Chi è? No, dico, da lunedì al sabato qualcosa la fai, ma Giù sulla mattina fa un po' di pulpi Vabbè, meno papà Un pomeriggio ti allena a calcio Sennò papà, scusa, poi questo d'inverno io mi devo all'energia per il più Vabbè, non c'è l'altro Grazie a tutti voi, guarda già, già i like, già vi mettono il mi piace E mi piace E mi piace Salve a tutti di questa bellissima domenica, grazie, grazie tutti Io purtroppo qualcuno mi ha chiesto di essere invitato, ma non ho gli occhiali Gli occhiali da vicino perché come sapete benissimo da lontano devo guidare Non è che non so leggere Non è che non so leggere, sei stupe Stai zitto che non sai leggere Allora, lo sai quello che ti ho combinato l'altro giorno col calcio, no? Ti ho lasciato a piedi perché lui mi ha detto che papà, se qualche giorno di questo voglio fare un po' di... Jogging, eh? Jogging Jogging Jogging, vabbè E allora ho detto scendi Orlandino che sento un rumorino alla parte posteriore dell'auto Lui è sceso, poi vedi, sono lì partito e l'ho lasciato a piedi, vabbè Cosa che capita Oggi questa bellissima... Ma se non conoscevo la strada? Eh, vabbè, insomma passaggi, qualcosina la trovo, ma quanto siete, quanto siete? E lo so, vi abbiamo un po' trascurato, perché? Questa ha la mania di allenarsi, mi lascia impare Il soccer, tutte queste cose qua A proposito, salutiamo il mister Lello Salutiamo il mister Lello Moniaci Della, del beach soccer Calanzaro, no? Il vivaio, ah, 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 il vivaio, no perché ho preso una forza Il vivaio della Serie A, della squadra della Serie A, del Cadanzaro Oggi domenica siglata 27 mi sembra, o 28? No, 28 28, e parla chi non dovrebbe parlare 28, 28 luglio 2018 Salutiamo mia mamma che in ascolto 2019, avete ragione Mi sono distratto perché è passata una persona Volevo salutare, l'ho detto, però sto venendo a dire 2019 E dicevo, cosa diciamo? L'anno luce diceva, guarda quanti cuoricini Mi hanno mandato un hashtag, che è Ponte Grasso Ma che dici? Ma che ne so, che ne so Fai consiglio a Cadbut tutta l'aria Chi c'è? Salute a Cinzia Lello Ciao Cinzia, ciao Cinzia Oggi insieme a lei, in relativa famiglia Insieme alla tua collega del L'unica scuola calcio a Milano La provincia di Calanzaro Il, si chiama? Andrea Andrea Che giocate insieme nella scuola calcio a Milano Dovevamo essere insieme Ma abbiamo detto Eh, ci ha aggiunto Ma tu ci sei o ci fai? No, ci sono Però eravamo impegnati con i camperisti Per oggi in una giornata speciale Che ha organizzato Stefania Che sta attormento E te li fanno Tutti che si fanno E vedi cosa dice Cinzia E' molto buono anche Ecco qua L'ambulanza è venuta a te E' successo già qualcosa No, perché? Ci hanno arrestato Però l'ambulanza mi auguro di no Senti, stavo dicendo Vedi cosa dice Cinzia Dice Ah, belli, buongiorno Grazie Se ti riferisce a noi Sì, gli altri sono bruttini Dove è la bella, molto bella? Bella, bella Ah, Gizia, bella Sta dormendo Si arrangia Dovete sapere che Stefania Vai l'etalgo E vai l'etalgo Però nel mese sbagliato Devete sapere che Stefania Quando si organizza con il camper Praticamente Poi concludiamo alla fine Tu naturalmente Tu come amico Vuoi sapere che lei si stanca molto Organizza E prepara i piatti E prepara la cucinare Basta, basta Niente Ce l'è organizzata al telefono Poi non dobbiamo comprarsi Ne mettiamo la canna E si sta riposando qui alla manzarda Sta riposando Comunque è bello come Stefania E' proprio così speciale Che va Il letalgo La stagione sbagliata La stagione sbagliata Giù Volete sapere che Elio Naturalmente può essere riposando Perché? E fa le loro e le loro e le piccole Le piccole Tornate alle tre alle quattro E quindi è naturale Che sono Allora dove siete? Dove siete Cinza? Dici dove sei? Vediamo se ci incontriamo Ma no è difficile Lo sono da parte del Lametino Dovevamo incontrarci Ma non vi preoccupate Che se tutto va bene Non organizzeremo me Presto Anche perché nessuno può scappare da Stefania Le grindi E cosa dire? Cosa dire? Cosa dire? Bella giornata No io qui ancora Tra le altre cose Mi sono dimenticato Di mettere il manometro Della temperatura interna Ce l'ho dietro Ma qui no E se guardi che temperatura Andiamo così lento Che fai in tempo Siamo intorno alle 35 gradi Comunque Andiamo così lento Che fai in tempo Per andare dietro a prenderlo Attaccato Che simpatico Non si può scappare A te la simpatia è lasciata Al Milan o al Catanzaro Bene Questa è la cosa E ieri Voglio dirti una cosa Ieri E sono andato alla media Media War E ho visto che c'è un gioco Mario Maker 2 è uscito E' uscito il Mario Maker 2 Un gioco molto atteso Che cos'è? Praticamente La Nintendo cosa ha fatto? Non lo so Mi domandi cosa ha fatto? Ma io mi sono Ma chi l'ha detto? A me Noi ci siamo stufati Di fare giochi A proposito Vediamo cosa dice Paolo Isabella Ciao cari Grazie Poi c'è in se lento Siamo al mare Ah siete al mare Alla prossima Buona giornata Certo Buon bagno Buon bagno a voi E Girolamo Santo Cono Dice buona domenica Ciao Buona domenica anche a te Girolamo Ciao ciao Anche a te buona domenica Mi auguro tutto bene Con la palestra Con gli allenamenti di Thai box Muay Thai Quello che ti fai Guarda che se mi fa arrabbiare Lo chiamo Oh ce lo sai Perché devi scomodare una persona Alla va a venire qua Alla ce lo sai Lo ci pizzi Guarda che adesso vuoi Lo ci pizzi Guarda che gli prendo Biglietti per il Milan Guardate Alla prossima O Milan Ah a propos Se vuoi venire Il giocamino è tutto pagato Tutto pago Stipendiato Ma anche lo paghiamo per venire E quindi Ah certo E quindi si sta divertendo Allora Cinta Ti stai divertendo Allora Siete tanti in Collegamello Lo so Lo so Che ci seguite Questo a noi fa piacere Fa piacere E perché non ci stai facendo E questo stavo dicendo Comunque Ci seguono perché non c'è Quella macchia Ridicola Antipatica Fa perdere audience Chi? Se qua Ah beh Anche tu E dov'è? C'è questa zona L'audience Dove si trova? Poi una volta che si perde L'audience In quale zona si trova? Andiamo Che c'è? No Ah è tutto vuoto No non c'è vuoto Sì no è tutto vuoto L'ho detto Perché quando mi hanno creato Dice perché creare qualcosa Se non ti serve Sì giustamente Allora ti dicevo Stavo parlando Abbiamo creato una fila Praticamente di tre chilometri Vabbè non fai niente Sì Ah ma col capito Bisogna andare piano Allora dicevo Che cosa ha detto la Nintendo No? Chi l'ha detto? iPhone iPhone Ma noi ci annoiamo A fare i livelli di Super Mario Sì Fateveli voi Sì E questi sono E come dire Ti siamo creati Criati una moglie Bellissimo Ti immagino un gioco simile Ma in realtà Sai è un gioco bellissimo Perché si possono creare I propri livelli di Super Mario Tu in una parte Sembra che il primo L'hai finito Non si può Ah non si può È un gioco infinito Non ci ho capito Un cacchio Vabbè non si può È un gioco online Si creano livelli Sì E poi li creano E poi li puoi giocare Ah ho capito Bello Molto bello Molto bello Con diversi elementi Per provvedere Cioè puoi cambiare Stim Diversi giochi C'è il primo Super Mario Per NES C'è il Super Mario World Il Super Mario 2 Sì Allora chi volesse comprarlo Invece parliamo di qualcosa Di Come si dice Del cinema insomma Cinefile Cinefilo Cinefilo Perché io mi Mi sbaglio col cinofilo Perché tu Allora dimmi 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 Qualche film attuale C'è l'ultimo di Spider Perché è bellissimo Spider-Man è fatto Un po' L'abbiamo visto È molto bello Non possiamo parlare No spoiler Ora uscirà A proposito Vogliamo dire Qual è il tuo eroe Più tra virgolette Amato Degli Avengers Anche parlando Dei cattivi Insomma No 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 Il tuo proprio Quello che ho Quello amato Iron Man Chi me lo tocca Scemo Ed Iron Man Scemo Più odiato No Iron Man Ah beh certo Come si chiama Occhio di fatto Allora spieghiamo Spieghiamo Dobbiamo spiegare Il perché Odio questo personaggio Lui No l'odio È una parola Un po' Grossolana Diciamo Mi dà fastidio Perché Perché Spieghiamo questo personaggio Dal prima Avengers Che lui ha Questa Fobia Questa antipatia Verso questo personaggio A proposito Vediamo Vediamo che cosa Ci scrive Maria Lucia Rubino Ciao Anche mio figlio E partito Di super Maria Mechel Ah ciao Anche tu Sì Maria Mechel Che ti davano poi Una statuina Mi sembra No All'inizio Sì L'edizione limitata Ti davano una statua Io ero Io ero in titino Di comprarglielo Maria Lucia Ieri Ma poi Dovete sapere Movie maker Movie maker La ps4 La ps4 La nintendo La ps4 Ah la nintendo Alla nintendo Ragazzi D'ora in poi La nintendo Arriverà Su tutte le console Ma io Ieri Mi sono promesso Che io Non ne capisco Sono anche promesso Anche oggi Che non ne capisco Molto A questo personaggio Che è appunto A lui Specialmente Perché dice Ma perché Non gli finiscono mai Le frecce Ma queste frecce Non finiscono mai Questo Lancia sempre le frecce Non finiscono mai Ti devo Correggere Perché E per questo motivo Di litigio Con lui Perché si All'interno Di diversi film Lui ha finito Le frecce Ma dai dai Non finisce Poi Arriva Iron Man Non riesce a sconfiggere Con il suo supportale Arrivale con una freccia Piccolina Da 2 euro E l'uccide Dai Vabbè Ma con Cata Lidl Vabbè Dai vai Tu parla Che io devo Andare alla strada Ci sono diverse scene Ci sono diverse scene Sceme Sceme Ah Sceme Sceme Sarei tu scemo Al massimo Ho capito Sceme Noi Che dici Maria Lucia Rubino Mio figlio Lo usa Sul Nintendo 3DS Sì perché L'ho fatto anche L'internet Ah si può anche Giocare Sì ma ormai Non si può fare più L'online All'internet All'internet 3DS No Ah l'internet 3DS Mi dice Adesso Che non si può giocare online Mentre la Nintendo Cioè La PS4 Aumentata Si può Ci Dove un po' Arriverà anche Sull'Xbox One State attenti Microsoft Ha comprato la Nintendo Mi ha fatto comprare Anche se La Nintendo Anche se Quale hai detto Che Come esce La Nintendo Switch E quella ce l'hai Anche se Ultimamente la Microsoft Diciamo che ha fatto Alcuni accordi con la Nintendo Sì Quindi ci sono dei crossover Minecraft Che è uscito sulla Nintendo Switch Ad esempio Quindi diciamo che sono in buone E qual è il gioco Diciamo che Prossimo dovrebbe essere In uscita Ah diciamo Che poi i giochi escono tutti Sulla varie console Ciao Ciao Maria Lucia Ciao Grazie per aver partecipato A questa nostra mia diretta Ma allora riesci a leggere Vabbè perché Ho visto la C in grande Allo finale Mi sono collegato Quattro scritte Quattro lettere Qui Vai Dicevi quindi Qual è il gioco Diciamo più o meno Esce in tutte le console E poi alla fine No Un nuovo gioco Che uscirà imminente Ma guarda Non ti so dire Perché ora Non sono molto informato Come vedo già Da diversi Devo Recuperare un po' di strada Comunque per la precisazione Non è che non ci vedo Vedo un po' sfocato No tu non sei leggere Visto l'età Non è lei che non vede Lui non sa leggere Perché è diverso Perché Hai fatto questo Lui quando andava a scuola Ma studiava Perché Perché ci andavo Non so nemmeno Come sono laureato Un po' di amicizia Quella Come diavolo hai fatto A laurearti Beh devi sapere Che tua mamma Era dalla finestra Che mi dava Eh Vabbè Ma mi fai Desse cose Che ho capito Che è questo Siete Siete tanti Siete addirittura Siete arrivati dieci in diretta Bravi 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 Eh ma Ma le altre persone Volevo dire anche le altre persone Ma ti vedo Chi è questo? Si spaventa Paolo Ma mamma Non avevo detto una cosa Paolo Vagni Avevo capito Paolo Vagni Ciao Paolo Benvenuto anche a te È la prima volta che È noto insomma La tua partecipazione E quindi diciamo Salutiamo il calcio Milan Il basket Insomma Che cos'è che salutiamo? L'unica scuola a calcio Milan La provincia di Catanzaro Nell'academy Che è appunto La mezza Che a settembre Insomma Inizierete i vostri allenamenti Tu sarai impegnato Fino a dieci Auguri Auguri Perché hai vinto Sei stato su tutti i giornali Insieme alla tua squadra Tu come portiere Della categoria Estotente Grande orgoglio Grande orgoglio Anche con Il PS Catanzaro Porti la tua dovuta coppa È stata una bellissima partita Un grazie anche A tutti i ragazzi Insomma Che hanno giocato con te Poi tu hai partecipato anche Nella categoria Pulcini In prestito E anche lì hai fatto La differenza E non sei stato L'unico portiere Ma il migliore Il giusto Prendere qualcosa Insomma Salutiamo Il mister dell'Omonio Ci vinciono Per me sei stato il migliore Poi La coppa La vittoria Dice tutto E diciamo un'altra cosa Diciamo anche Che si prolungherà Fino al 10 Se poi Speriamo a Ferragosto Speriamo a Ferragosto Ci finirà Vabbè giustamente Se il 10 andrà Tutto a buon fine Finirà Io faremo anche In Ferragosto Naturalmente Lui si riposerà Fino al giorno 16 Perché poi ritornerà Con E cinque giorni Che cosa vuoi Guarda Lo diceva anche Il grandissimo Michele Zarrillo Che arriva Da queste parti A settembre Nella località Siano Diceva Cinque giorni Che ti ho perso Quindi cinque giorni Tu ti perdi Nelle Io ti vorrei perdere Per strada Guarda Ti lascio qui Però ritorni No Ti lascio io Per strada Tanto abbiamo Lì Senti Guarda L'altro giorno Mi disse uno Stati attento Stati accorto Come parli Perché si potrebbe andare in galera Ci ho detto Guarda io Ormai ci sono abituato In galera Lui mi disse Come? Lui mi disse Come in galera? C'è una divisa del portogano Come fai? Dice no Sono in galera Con mia moglie Da venticinque anni Se tu mi hai detto Mi dici che mi lasci Io ci sono abituato Tanto mi ha lasciato mamma Da tanti anni Siamo in casa Separate Dice guarda Dormiamo insieme Ma con letti separati Allora dissi Da bene Facciamo due letti separati All'interno della stanza Ho detto così No Ha detto Io dormo nella stanza Tu vai e dormi sul divano Meno male che non ti fanno dormire a terra Anche ogni tanto Non si arrabbia Non si arrabbia Dorme a terra Ma io la frego Me ne vengo nel capo Ne dormo nel capo E quindi dicevo Cinque giorni di riposo Insomma voglio dire E niente Non volevo fare una barzellettina La posso dire questa barzellettina Un po' spinta Ma nulla di particolare Guarda che si mi piace protetta No Io dicevo A tutte le donne Che piace cucinare L'oltre è culinaria Che la parte più bella È l'amido L'amido Che è la parte Che fa bene alla salute No mi pare che tu le dici Hai detto che il pappo Papà non è che fa bene Tutto deve essere È tutto fuoce Vedi che cosa dice Questa persona Che non è Questa persona qui E non la leggo E girano ma santo cosa Buona giornata a tutti Buona giornata anche a te Dicevo Questa patata Non la conservate Date una patata Anche perché poi diventa pure Eh? Ma meno patata Nei gli occhi Tenetino le patate Eh vabbè Vabbè Ricordatevi Magari Ricordatevi La patata adatta L'ha meglio Farla mangiare Anche nella vita Gli uccelli vivi Prima di andare ai baccherozzi Che poi quando si muore Intanto sta cadendo tutto Nel campo E che cale E che cale No ho dato questa curva Un pochettino Ma io l'ho presa curva E ho preso una curva storta Dove la prendo la diritta? Storta come te Fra non molto Chiuderemo questa diretta Ma noi ci ritroveremo Ragazzi Non vi preoccupate Io vi voglio bene Purtroppo non vi libererete mai No Mai Grazie che siete stati tanti Che sa Forse ci ritroveremo Ciao a tutti Vediamo quest'altra Maria Maria Liuzzo Ah ciao Maria Liuzzo Ciao la bellissima Maria Sì Saluto anche Saluti anche al tuo ragazzo Belpanno Non ricordi il nome Ciao Bellissima coppia Allora Salutiamo tutti Non la conosco A livello difesa Stati zitto Tutti dicono queste cose Stati zitto Noi c'è una fidanzata Stati zitto Io per avere le fidanzate tue Le vengono a tutte le mie figlie Ah No ho la stessa fidanzata A vari pochi Allora ragazzi Ciao a tutti Da Orlando Guerra Lo stesso messaggio Ma tutti Mandi messaggio a tutta la ragazzua Va bene Ciao Ciao a tutti Da Orlando Guerra E Orlando Guerra Ciao Alla prossima Ciao un bacione Buona domenica Ciao a tutti